Serie A 99.000 in un minuto L'Inter spende e prende Vieri Chiesa va alla Fiorentina e fa un figlio La Roma si piglia a Montella La Lazio, Simeone e Veron Il Milan uno sconosciuto ucraino Sheschenko Clamoroso, Lippi va all'Inter Ma è scemo? Cioè io boh, ma è scemo L'Inter è favorita Ancelotti va alla Juventus e i tifosi gli cantano Un maiale non può allenare Mi sa che avevano sbagliato qualcosa La Juventus è campione d'inverno Ma non avete ancora vinto niente Stavolta davvero, occhio Scevchenko segna La Juve è a più 3 Scevchenko segna La Juve è a più 6 Scevchenko segna La Juve è a più 9 La Juve perde col Milan La Juve perde con la Lazio La Lazio è discontinua, la Juve torna a più 5 La Juve perde col Verona La Lazio ci crede La Juve perde una partita di pallannuoto A Perugia la Juve crolla La Lazio è campione d'Italia Spalletti intanto allena il Venezia che va in Serie B E se un si vinca le partite la vedo difficile che ci si salva Un si resta in A Scevchenko segna Scevchenko segna Scevchenko segna